Serge Huberti ripropone la ricerca del Novecento sulle nostre origini usando il simbolismo della natura come archetipo di una ricerca istantanea nel nostro passato remoto. Il tronco di un albero morto che raccoglie acqua piovana fornisce all'artista il transfert della rigenerazione ad opera del gesto della libagione. Collega un rito purificatorio antico con la visione laica di una religione della natura autosufficiente. «Sive Deus, Sive Natura» diceva Spinoza. Huberti si colloca nel secondo ramo logico trasportando nella pittura la visione. 22 opere esposte al ristoarte di Via Margutta fino al 7 dicembre testimoniano questa ricerca archetipa ciclica che ricorda ancora una volta le nostre origini animali.